E tante persone oggi dicono di credere in Gesù Cristo, avere fede addirittura, però non hanno mai sentito della nuova nascita. Gesù gli rispose, in verità, in verità ti dico che se uno non è nato di nuovo non può vedere il regno di Dio. Gesù qui sta parlando a Nicodemo, un fariseo, dottore della legge, uno che insegnava la parola di Dio e parlava qui del bisogno di nascere di nuovo. Era stupito questo Nicodemo, non capiva quello che intendeva dire Gesù Cristo, era cosa strana. E poi Gesù va avanti anche a spiegare un po' il testo, cosa vuol dire nascere di nuovo, cioè non vuol dire che bisogna entrare di nuovo il grembo della mamma, uscire di nuovo. Niente di questo, ma una nascita spirituale. In poche parole poi Gesù in questo caso qui sta insegnando che tutti quanti noi siamo nati spiritualmente morti e siamo non capaci di rispondere in modo giusto a Dio se non per questa vivificazione o rigenerazione, anche viene chiamata la nuova nascita. Quando nasciamo in Dio per opera dello Spirito Santo, poi possiamo giustamente rispondere alla chiamata del Signore, lasciare il peccato, abbracciare per fede Gesù Cristo e ricevere il dono della vita, la vita eterna, il perdono, la salvezza in Cristo Gesù. Quindi è una cosa molto importante, ma vedrai pochissime persone, in effetti, hanno studiato, hanno compreso cosa vuol dire. E tante persone oggi dicono di credere in Gesù Cristo, avere fede addirittura, però non hanno mai sentito della nuova nascita. E in parte questo succede perché poi esiste la Chiesa Cattolica Romana che purtroppo non capisce bene, secondo me, questo versetto, questo concetto, e insegnano che tutti i bambini sono nati di nuovo per opera del battesimo. Però questo va subito, ci fa capire che va subito al contrario di quello che insegnava Gesù Cristo, che nessuno può farsi da solo nascere di nuovo. E nessuno può far nascere di nuovo un'altra persona. Quindi fare il battesimo non fa succedere la nuova nascita. C'è un altro battesimo, il battesimo dello Spirito Santo. Quando succede questo, nasciamo di nuovo, siamo riempiti dello Spirito Santo e siamo vivificati. È questo che intendeva dire Gesù Cristo. Ma purtroppo pochi lo sanno, tutti hanno un'idea che forse mi è successo quando mi hanno battezzato, ma poi vedrai che il frutto spesso non c'è. E oggi vedremo anche il frutto e com'è importante per questo discorso. Tu sei salvato oppure no? E come lo sai che sei salvato? È giusto sapere di essere salvato oppure no? Forse è presentuoso pensare che possiamo sapere di essere salvati. Queste cose vengono spesso in mente. Tante persone pensano, sì, sarò salvato perché Dio è amore e Dio è buono. Le persone presumono che è così, che Dio accetta tutti noi e spesso questo significa che abbiamo un'idea di Dio, idolatria, abbiamo un Dio della nostra mente che abbiamo noi creato per noi. Dio è così, accetta tutti, ma poi bisogna anche paragonare a ciò che pensiamo di Dio, a ciò che Dio si rivela di se stesso nella sua parola scritta e datoci come un regalo. Lui si rivela a noi in modo tale possiamo noi avere la fede che a lui piace, possiamo sapere di essere salvati oppure no. Ma spesso capita, presumiamo di essere salvati, di essere in pace con Dio, perché abbiamo un'idea molto basso di chi è Dio, una concezione di Dio che non è biblica, in altre parole. Altre persone hanno una falsa certezza anche della salvezza, come dicevo, presumono di essere in pace con Dio quando in effetti non è così. Quindi oggi vedremo un po' quello che dice Gesù e quello che insegna la Bibbia su questo discorso dell'essere salvato oppure ingannato. E poi vogliamo anche considerare un po' le evidenze che si vede nella vita di una persona se è salvato oppure no. Questo è un po' cosa vedremo oggi. Grazie per aver visto questo clip dell'episodio. Se vuoi vedere l'intero episodio c'è un link nella descrizione di questo video. Allo stesso tempo ti invito a iscriverti al canale, così facendo vedrai ogni volta che esce un nuovo episodio. E se vuoi sostenere questo canale o questo podcast, ti invito a lasciare una recensione da 5 stelle dovunque ascolti e così facendo aiuterai altre persone a trovarci e ricevere le benedizioni dalla parola di Dio. Che Dio ti benedica. Ciao ciao. Ciao ciao.